In treno dalle grandi città a Napoli e poi in aliscafo verso la costa del Cilento. Rilancia così il metro del mare questa iniziativa attraverso il progetto Cilento Blue Club, un sistema integrato di trasporto con la mobilità su ferro per collegare le città del centro-nord Italia con il Cilento e con la mobilità via mare, mettendo in relazione la fascia costiera cilentana con le città di Napoli e Salerno, la costa malfitana e l'isola di Capri. Sono state chieste le manifestazioni di interesse al gruppo Ferrovie dello Stato e alla società Italo per il prolungamento dei treni ad alta velocità da Salerno a Sapri. L'obiettivo finale è quello di incrementare i flussi turistici provenienti dal centro-nord Italia rendendo più agevole i trasferimenti sia su ferro che via mare, nel contempo rendere più competitiva l'offerta turistica degli operatori della filiera ricettiva su scala nazionale. Nell'ambito della mobilità via mare sono state individuate tre linee marittime attive dal 1 luglio al 31 agosto. La linea 1 Salerno-Costa del Cilento, la linea 2 Cilento-Costa d'Amalfi, la linea 3 Sapri-Capri-Napoli attiva però il martedì, mercoledì e giovedì e la linea 3B sempre Sapri-Capri-Napoli attiva il lunedì e il venerdì. È in vigore il decreto che porterà alla stretta sulle prescrizioni di visite mediche ed esami a rischio di inappropriatezza ed il giro di vite riguarderà oltre 200 prestazioni di specialistica ambulatoriale. È stato infatti pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto. Nell'ottica della razionalizzazione e contenimento della spesa, nuovi e notevoli risparmi nel settore della sanità dovrebbero appunto arrivare dallo stop ad esami e visite inappropriate. Le prestazioni erogate al di fuori delle condizioni di erogabilità previste dal decreto ministeriale con precisi paletti e criteri sono infatti a totale carico dell'assistita. Dura il giudizio dei sindacati medici della Federazione dei Medici di Famiglia al sindacato dei medici dirigente Anao Assomed che sottolinea come l'entrata in vigore del decreto porterà ad un inevitabile taglio delle prestazioni per i cittadini. Il medico, infatti, nel caso in cui sia approvata l'inappropriatezza delle prescrizioni, sarà sottoposto ad una sanzione pecuniaria sul salario accessorio. Attendo rispettosamente che ci sia qualche altro candidato alle primarie perché tutto posso fare meno che candidarmi da solo contro me stesso. Ricordo a tutti che si vota giugno di quest'anno, non dell'anno prossimo, come forse qualcuno crede. Lo ha detto Antonio Bassolino, candidato alle primarie del centro-sinistra a Napoli, riferendosi all'impasto nel PD sulla scelta di altri candidati. Meno male che mi sono candidato, ha detto Bassolino, altrimenti a Napoli. In questi mesi ci sarebbero stati solo dei magistri, cinque stelle lettieri che fanno il loro lavoro, ma non ci sarebbe stato il PD in gioco. Bassolino è stato il monarca della monnezza, il principale responsabile di quella stagione dei rifiuti, ha detto il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Per De Magistris Bassolino rappresenta la fotografia della vecchia politica, di chi ha distrutto la città di Napoli, la regione Campania, e noi ancora oggi paghiamo, dice quella stagione politica. De Magistris, affermando di non vedere l'ora di iniziare la campagna elettorale, ha ricordato che per ora è presto, noi continuiamo a lavorare, poi ha concluso, se lo sfidante sarà Bassolino, sarà una bella campagna elettorale, vinceremo le prossime elezioni, un end di napoletani nel votare Luigi De Magistris. L'industria manufatturiera della provincia di Salerno mostra segnali di netta ripresa, e quanto emerge dall'analisi dei dati congiunturali del terzo trimestre 2015 e dalle previsioni per il trimestre successivo elaborati dalla Camera di Commercio di Salerno. Per la prima volta dal 2010, tutti gli indicatori di performance presentano il segno più, segnali positivi per l'industria alimentare, per le industrie chimiche, le materie plastiche per l'industria dei metalli, positive anche le attese per il quarto trimestre. Persistono le difficoltà invece per il settore del commercio, con un calo complessivo delle vendite del 3,8%, che riguarda in particolare il settore alimentare. Fiducia sull'andamento degli ultimi mesi dell'anno, soprattutto per gli operatori della grande distribuzione. Sul fronte dei servizi, Salerno continua a segnare la migliore performance territoriale della regione, che interessa principalmente il terzario tradizionale, rappresentato da turismo e trasporti. Segnali positivi anche nelle costruzioni, positive le aspettative per il periodo ottobre-dicembre, ad eccezione del comparto al belghiero. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS